Ciao ragazzi, benvenuti tutti in questo nuovo video. Oggi io e la Valle stiamo raggiungendo il Pizpoè per il primo tramira della Valle. Abbiamo fatto i furbi, abbiamo preso l'impianto di risalita che porta al San Spordoi per poter fare una camminata molto semplice e acclimatarci un attimo in vista della camminata che avevamo in programma domani. Andiamo su? Con calma. Con previsione. Grazie a tutti. 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 Vai amore. Primo 3000. Bravissima. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.